Nella mattinata di mercoledì 22 febbraio, la Fondazione Asilo San Vito ha consegnato all'Associazione Sorgente dei Sogni i tappi di bottiglia raccolti dalla Scuola dell'Infanzia. L'evento si è svolto nel piazzale Caduti di Nassiria di Valdobbiadene, dove da fine gennaio si trova una gigantesca bottiglia eco-solidale realizzata per una raccolta fondi a sostegno dei bambini oncologici. A presenziare simbolicamente alla consegna dei tappi i bambini dell'Asilo di San Vito, accompagnati dal Presidente e dalle insegnanti, l'assessore alla cultura Martina Bertelle e il sindaco Luciano Fregonese. La bottiglia eco-solidale rimarrava al Dobbiadene fino a sabato 25 febbraio, quando passerà nelle mani di un'altra città aderente al progetto benefico.